Più 4,4% nelle denunce per gli incidenti e più 11,9% in quelle che riguardano le malattie professionali. Sono i dati INAIL elaborati da ANMIL relativi agli infortuni sui posti di lavoro in provincia di Massa Carrara, divulgati in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Le cifre mettono a confronto il primo semestre del 2023 con lo stesso periodo di quest'anno. Nella provincia Puana non ci sono stati incidenti mortali, ma gli infortuni sono aumentati di 53 unità e le denunce di malattie professionali sono state 67 in più. Numeri che confermano come l'emergenza sicurezza continua e che gettano sale sulla ferita aperta dalle dichiarazioni dei mesi scorsi di alcuni industriali del marmo. Quel giorno lì forse è il giorno più brutto della nostra associazione. Io ho avuto un infortunio sul lavoro nel 1983, avevo soltanto 21 anni e devo dire che non mi sono sentito un deficiente quando sono rimasto sotto a una gru. Anzi, mi sono sentito spaventato e deluso per non aver avuto una formazione giusta. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali e il presidente di CNA Massa Carrara, Carlo Alberto Tongiani. La giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo si celebra in concomitanza con la ricorrenza del disastro di Marsinelle, la città belga dove a causa di un incidente in miniera persero la vita 262 persone, tra cui 136 italiani.